C'è tutto un paese, Moresco, attorno a Mario Straccia e alla sua famiglia. Da otto anni non ci sono feste che tengano. La scomparsa di Roberto era avvenuta dieci giorni prima di Natale, il ritrovamento del corpo nel successivo mese di gennaio. Il padre Mario non si dà pace. Contro ogni evidenza, dice, si continua a sostenere che Roberto possa essere morto per suicidio o incidente, quando è materialmente impossibile che un corpo possa essere trascinato da Pescar, dove è avvenuta la scomparsa, a Bari. Dove è stato trovato, con pochissima acqua nei polmoni. A fugare poi ogni ipotesi di rassegnazione e la rivelazione, prima di una donna fidanzata di un pentito, poi dello stesso interessato, quest'ultima dichiarazione intercettata nel carcere di Lanciano, che confermerebbero la tesi dello scambio di persona. Della vicenda si è tornata nuovamente a occupare recentemente la trasmissione di Retrecchi da visto. Roberto sarebbe stato quindi ucciso per errore. L'obiettivo era un omonimo per certi versi, un tale che veniva chiamato Roberto di Pescara. Nessuno restituirà Roberto alla sua famiglia, ma la sua memoria deve essere integra. Così nel giorno del compleanno del ragazzo, il papà Mario invita amici e conoscenti a ricordare Roberto alla sua maniera, giocando a carte come lui amava fare, e anche pregare affinché questa tortura possa finire. Un primo passo sarebbe, secondo la legale della famiglia, la trasmissione del fascicolo relativo alle indagini del Tribunale di Pescara alla DDA dell'Aquila. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.